Questa trincea che i soldati ucraini stanno cercando di recuperare non è in prima linea, è in Polonia e oggi il nemico non è russo, ma francese. Questa è solo una delle esercitazioni che l'esercito francese sta svolgendo nell'ambito della missione di assistenza militare dell'Unione Europea in Ucraina, nota anche come EUMAM. Per circa un mese e mezzo i soldati ucraini vengono messi alla prova in modo da poter tornare a casa con competenze migliorate nel tiro tattico, nel lancio di mortai, nella guida e manutenzione di veicoli, nello sminamento e nel pilotaggio di droni. Finora i francesi hanno addestrato oltre 10.000 soldati ucraini in Polonia o in territorio francese, su un totale di 46.000 addestrati attraverso l'UEMAM, dai 24 stati membri dell'UE partecipanti, ma anche gli addestratori imparano dalle truppe ucraine. Euronews non ha potuto parlare con nessuno. dei soldati ucraini durante la giornata di addestramento che abbiamo osservato il mese scorso, ma in una dichiarazione inviata via email il Ministero della Difesa ucraino ha affermato che è molto importante continuare l'addestramento del personale militare ucraino nel quadro di questa missione. Ciò consente ai difensori ucraini di padroneggiare armi ed equipaggiamenti moderni per rispingere efficacemente l'aggressione russa. La giornata è culminata in un villaggio di addestramento dove gli ucraini sono stati incaricati di mettere in sicurezza una strada con trappole esplosive e soldati nemici in agguato. Sono stati commessi diversi errori e alcuni sono stati rapidamente etichettati come feriti, ma questa volta hanno ottenuto la sufficienza. Ma non c'è tempo per riposare, presto torneranno in prima linea per davvero.